E come vi anticipavamo andiamo subito a Firenze perché dopo giorni di ricerche è stato recuperato il corpo della Quinta, vittima del crollo del cantiere Selunga. Ora la salma è affidata all'autorità giudiziaria per l'identificazione, ma sentiamo dalla sede regionale Antonella Morelli. I vigili del fuoco lo hanno individuato alla luce delle foto elettriche e il corpo dell'ultimo operaio che mancava all'appello. Come spiega la comandante dei vigili del fuoco di Firenze, Marisa Cesario. Quest'ultima vittima è stata trovata un po' più profondità e più a destra, più nella parte destra del cantiere. Cinque giorni e cinque notti di lavoro senza interruzione, con microcamere flessibili, via via con macchinari sempre più specifici, per aprire una breccia in quell'ammasso di cemento e cavi di ferro che ha sepolto cinque persone. I primi quattro corpi trovati dai soccorritori quasi nell'immediatezza del crollo nel cantiere di via Mariti, ma individuare il quinto è stato più difficile e pericoloso. Si è dovuta rimuovere la trave che ha ceduto, 15 tonnellate di peso, con una gru gigantesca. Mettere in sicurezza un'area precisa dove concentrare le ricerche. Infine è arrivata un'escavatrice per spostare le macerie e rendere più agevole il lavoro dei vigili del fuoco. Con il ritrovamento del corpo del quinto operaio diventa definitivo il bilancio della tragedia sul lavoro nel cantiere del nuovo supermercato Esselunga. Cinque vittime, un italiano Luigi Coclite, 59 anni, residente a Colle Salveti nel Livornese, Mohamed Tukabri, tunisino, di 54 anni, e poi Taufi Haidar, 43 anni, che veniva dal Marocco, così come Buzekri Raimi, 54 anni, e Mohamed El Farane, 24 anni, il più giovane. Tre operai rumeni sono rimasti feriti, ricoverati all'ospedale di Careggi, le loro condizioni sono in miglioramento. Intanto la procura accelera nell'inchiesta aperta, con le ipotesi di reato di omicidio plurimo colposo e disastro colposo, cercando di far luce nella giungla di subappalti e contratti irregolari. E dopo il crollo di Firenze, oggi CGL e Will hanno indietto due ore di sciopera nazionale, la mobilitazione lanciata dalla CISL, diversi presidi di lavoratori e sindacati insistono sulla necessità di controlli e di applicare la normativa sugli appalti pubblici e anche privati. Sentiamo Cristina Raschio. Dopo la tragedia di Firenze, torna in primo piano la sicurezza sul lavoro. Ma chi deve fare i controlli, soprattutto nel settore dell'edilizia, dove i rischi sono maggiori? In primis, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il problema è che gli ispettori sono pochi, con tanto lavoro, e inoltre il sistema del subappalto a cascata ha cambiato tutto, rendendo sempre più complicati i controlli. In appalti medi da 10-15 milioni di euro si subappaltano lavori o lavoretti persino da 1.500 euro, dunque è sempre più difficile fare le verifiche. Ci sono poi le aziende sanitarie locali che devono ispezionare i cantieri, constatandone l'idoneità in materia di igiene e di sicurezza. L'ulteriore fase di verifica spetta al personale ispettivo di IMSS e INAIL e riguarda il rispetto degli obblighi previdenziali e assicurativi. Saranno poi i vigili del fuoco a entrare nel cantiere per verificare il rispetto della normativa antincendio. Nell'edilizia ci sono inoltre i comitati paritetici territoriali che sono costituiti da rappresentanti sia del datore di lavoro sia dei lavoratori e che hanno la facoltà di fare visite e sopralluoghi nei cantieri e poi eventualmente segnalare violazioni agli stessi datori. Per quanto riguarda i sindacati, questi non hanno compiti di controllo ma hanno la facoltà di acquisire notizie e possono segnalare le violazioni o fare proposte per migliorare la sicurezza. Tra queste c'è per esempio quella di estendere al settore privato quanto di buono c'è nel codice degli appalti pubblici ossia tutte le tutele in fase di esecuzione dei lavori l'obbligo di applicare il contratto ID evitando di usare contratti che costano meno e con meno tutele ma anche il divieto a ribasso sui costi per mano d'opera e sicurezza e la parita economica e normativa tra lavoratori in appalto e in subappalto.